Vi diamo il benvenuto nel cuore pulsante di Top News 24. Prima di svelare gli eventi di oggi, desideriamo chiedere il vostro prezioso sostegno. Un gesto semplice, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza straordinaria. Vi ringraziamo di cuore. Lutto nel mondo del cinema e della televisione per la tragica scomparsa di una famosa attrice. Il suo corpo è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento. Lasciando fan e colleghi sconvolti. La polizia sta indagando sulle circostanze della sua morte, avvenuta in circostanze misteriose. La notizia della sua tragica scomparsa è stata confermata dalla figlia, dopo che alcune voci avevano iniziato a circolare nell'ambiente. I vicini, preoccupati per un odore strano proveniente dall'appartamento, hanno contattato le autorità. Quando gli agenti e i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, hanno fatto una scoperta sconvolgente. Chi è questa amata figura del cinema e della televisione che ci ha lasciati così presto? Dopo giorni di speculazioni, il nome è stato rivelato, Nurmo Labadas. A soli 37 anni, l'attrice è stata trovata in avanzato stato di decomposizione. Nurmo era andata in città con grandi speranze di successo, ma stava lottando per raggiungere i suoi obiettivi. La sua famiglia, sconvolta dalla perdita, ha dichiarato di aver capito solo ora quanto fosse insoddisfatta dei suoi risultati, portandola a compiere un gesto estremo. E tu cosa ne pensi di questa vicenda? Scrivilo nei commenti. E non dimenticare di iscriverti al canale ed attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.